Ho visto oggi da casa il fuoco, ho visto il fumo, ho sentito il fumo, ho immaginato che era qui vicino, però qui c'era un incendiamento abusivo, sicuramente lo sapevano tutti, ma non gli frega niente a nessuno, ecco, un po' se l'hanno scappati perché è vietato, e questo è il mio film rogo, sicuramente è successo anche a Torre Spaccata che c'era un incendiamento abusivo, che è facile, se stanno altri più avanti vicino a questo messaggero. Ce ne sono diversi qua, in questa zona. Sì, sono diversi come no, lo sono sempre stati, e poi vabbè, l'incuria si vede, la periferia è abbandonata a se stessa, non stanno a pensare al giubileo, i soldi si stanno investendo là, ma a noi romani penso che non ci frega niente dei monumenti belli, qua serve la polizia e l'ordine pubblico che non c'è, troppi delinquenti e Roma è sporca. Grazie a tutti, grazie a tutti.